Quattro parole, marcia indietro, propaganda, mancanza d'umiltà, aiuto a un privato in difficoltà. Queste sono le parole chiave che forse spiegano l'attuale uscita dell'assessora Saccardi sul fallimento reale del project financing attraverso il quale sono stati realizzati dei colabrodo che sono i quattro ospedali di Prato, Pistoia, Lucca e Massa. Dicevo marcia indietro perché la Saccardi dice che forse va rivisto il modello e su questo ci troviamo d'accordo. Sulla marcia indietro ha il nostro appoggio. L'abbiamo sempre sostenuto che erano dei passaggi assolutamente di inadeguatezza che non caratterizzavano nessun tipo di eccellenza. Riacquisiamoli, reinternalizziamo e diamo anche valore al lavoro levando dal precariato tutti quei soggetti subappaltanti che il concessionario gestisce. Propaganda elettorale? Sì, perché in tre di questi quattro posti si va al voto a giugno prossimo. Ci sono le amministrative? Ecco che quindi l'assessora sta cercando forse in maniera un po' demagogica di intervenire. Mancanza d'umiltà? Sì, mancanza d'umiltà perché questa regione ha continuato a sostenere per anni che quello era il modello migliore nonostante l'evidenza di pronto soccorsi congestionati, di mancanza di posti letto, di grandi difficoltà con malati nei corridoi, nelle barelle e gli ospedali che non ce la fanno ad accoglierli e a rispondere a bisogni di salute. Ultima, la Staldi e il Gesat, che è questa società che gestisce la parte non sanitaria degli ospedali e che ci guadagna con questa concessione, avendo anche altre attività e trovandosi in difficoltà, sta cercando di vendere. Abbiamo anche in questo qualche perplessità perché sembrerebbe quasi di fare un piacere al concessionario acquisendo noi il valore di queste concessioni. Vigileremo su questo e ricordiamoci che un passo indietro implica anche essere un po' più umili nell'affermarsi tutte le volte come eccellenti, abusando di questa parola quando l'eccellenza non c'è.